Perde un altro pezzo la rappresentanza pugliese nella maggioranza di governo. Il deputato bicegliese Davide Galantino ha annunciato ieri l'iscrizione al gruppo misto. Lascia dunque il Movimento 5 Stelle, il militare dell'esercito, che in un primo momento aveva giustificato con vaghe motivazioni personali la sua scelta, ma nella notte, dopo gli attacchi ricevuti dai colleghi di partito e dai militanti, Galantino ha deciso di spiegare, con un video pubblicato su Facebook, la sua scelta. Mi hanno messo sulla stampa nazionale. Non lo fanno quando proponi qualcosa di utile, qualcosa che può cambiare la vita alle persone. Lo fanno quando non ti allini al sistema. Io sono entrato nel Movimento 5 Stelle per cambiarlo il sistema. Oggi esco dal Movimento affinché quel sistema non cambi me. Galantino critica quello che definisce il sistema casaleggio. L'organizzazione è tutt'altro che dal basso, secondo il parlamentare bicegliese, ma è invece verticistica. Si reprime il pensiero dei parlamentari, ne annullano le funzioni dei parlamentari. Qual è il progetto finale? Io questo non l'ho scoperto, ma vi assicuro che insieme agli espulsi che oggi sono nel gruppo misto a dire le cose come stanno, noi rappresenteremo i cittadini perché è per questo che siamo stati eletti. Dagli attivisti e dai colleghi parlamentari Galantino viene più volte definito traditore, ma lui rivendica con questa scelta la fedeltà a chi lo ha eletto. Se ho un problema sul territorio, io devo risolvere il problema, non giustificare l'assenza totale del supporto del governo perché ci sono altre priorità. Galantino era entrato più volte in contrasto con le dinamiche interne al Movimento, come quando aveva condannato la gogna mediatica a cui il Movimento aveva sottoposto il presidente del Consiglio Comunale di Roma, Marcello De Vito, arrestato per una presunta corruzione. Molto acceso è stato lo scontro dei giorni scorsi con l'onorevole pugliese Francesca Galizia sulla vicenda della chiusura del punto nascita di Biceglie. La Galizia, parlamentare pentastellata di Giovinazzo, aveva indicato nel presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, l'unico responsabile della disattivazione del reparto. Nella sua replica, Galantino, ha invece accusato la collega di disfattismo e di preferire copertine e passerelle, anziché la ricerca di soluzioni concrete ai problemi dei cittadini bicegliesi, magari attraverso un contatto con il ministro della Sanità Grillo. Ma probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'espulsione dalle file dei 5 Stelle della deputata leccese Veronica Giannone, che in alcune occasioni ha votato in maniera difforme rispetto al suo partito.